Siamo con il Patriarca di Giuseppe dei Latini, Pier Battista Pizzaballa, che incontra il Cardinal Zuppi a Bologna. Come sta la comunità cristiana interessante? È una comunità piccola nei numeri, vivace, nonostante tanti problemi, conflitti di ogni genere, le divisioni tra Giordania, Israele, Palestina e così via. Non è una comunità ripiegata su di sé, che però è in attesa, come tutte le altre comunità religiose, che un giorno si possa parlare di terra santa senza parlare necessariamente di conflitto o di tensioni. Fare unità è la sfida principale, perché i nostri confini tra Israele, Giordania, Palestina e anche con Cipro non sono confini semplici. Quindi dopo generazioni in cui le comunità non riescono a incontrarsi, il rischio è quello di andare ciascuno un po' per conto suo. Però, soprattutto in questo cammino sinodale che abbiamo cominciato a fare insieme, riusciamo a trovare anche degli elementi comuni. Quando stai in ufficio vedi solo i problemi, le crisi, le difficoltà. Invece quando vai nelle parrocchie, nelle comunità di vario genere, religiose, non arabi, non arabi, emigranti e così via, vedo tanta vitalità, tanta voglia di vita. Non sempre trova gli sbocchi giusti, questo è il compito anche del pastore, dare delle indicazioni, però è una grande consolazione. Ecco, vista dalla terra santa la guerra in Ucraina, ma senza dimenticare anche i conflitti che ci sono in Israele e Palestina. Chiaro che la guerra in Ucraina ha lasciato tutti un po' sorpresi, l'Europa che dava sempre lezioni di pace e di dialogo nel cuore dell'Europa, un conflitto così. Però la prospettiva dalla terra santa è una prospettiva non europea, diciamo, è percepita innanzitutto psicologicamente come qualcosa lontana. E' vero che in Israele si è preoccupato perché la Russia confina con Israele in Siria, ecco, e poi c'è soprattutto da parte dei palestinesi un po' di, come dire, un po' di fastidio, perché si percepisce molto chiaramente che in Europa ci sono due pesi e due misure. Se qualcosa accade in Ucraina tutti ne parlano, ma se accade in Palestina nessuno dice nulla. Ecco, questi due anni di pandemia hanno segnato anche la difficoltà di viaggiare, di venire a fare pellegrinaggi interessanti. Com'è la situazione adesso e se si può riprendere con speranza a tornare a viaggiare, a fare i pellegrinaggi interessanti? Siamo stati due anni, io sono da più di 30 anni a Gerusalemme, due anni senza nessun pellegrino perché i confini erano ermeticamente chiusi. Nonostante intifade e guerre nel passato c'erano sempre pellegrini. Adesso però, grazie a Dio, siamo, mi pare, alle spalle delle grandi ondate della pandemia e i pellegrini cominciano a tornare. Le città, la città di Gerusalemme, soprattutto le vie di Gerusalemme, cominciano non proprio a pullulare, ma a vivere, a riattivare le dinamiche di vita con i pellegrini. Ecco, è un ritorno di padre Pizzaballa a Bologna. Questa sera cosa chiederà ai bolognesi? Dunque, sono qui a Gerusalemme di Bologna, devo dire ai bolognesi e ricordarsi che comunque Gerusalemme è interessante perché bisogna andare là. Allora, questo è un invito anche come augurio di pace. È un augurio di pace perché la presenza dei pellegrini è sempre una presenza di pace. La Pasqua a Gerusalemme è un unicum, sarebbe bene poterla fare a Gerusalemme per i pellegrini bolognesi e la Pasqua comunque è un annuncio di vita. E soprattutto in questo momento è quello di cui abbiamo bisogno, una vita che nonostante tutto, vita e amore, nonostante tutto hanno l'ultima parola.